calamari con i piselli sono calamari freschi ho messo a fare un piccolo soffrittino con lo sgarugno nel mio wok e fra un minuto aggiungerò i miei piselli scongelati passato un minuto ecco che aggiungo i miei pigelli che praticamente sono scongelati sotto l'acqua sono dei pigelli adesso vado a insaporire aggiungo anche un pochino di acqua per ammorbidirli poco a poco e copro per due minuti dopo di che aggiungerò i calamari passati i due minuti guardate ho aggiunto i calamari do una bella mescolata il tale lo metterò più in là e adesso tengo a fiamma alta per 5 minuti poi abbasserò per altri 10 12 minuti 5 minuti a fiamma alta guardate che spettacolo adesso terrò 12 minuti a fiamma bassa ricordatevi fornello medio passati 15 minuti a fiamma bassa vado a controllare guardate che spettacolo avevo aggiunto anche un po di passata che meraviglia guardate adesso lascio altri due minuti poi spengo e rimarrà in autocottura bassa riche bassa riche all wraz